OMS di Siani Luigi, dal 1999 l'ufficina meccanica per ogni tipo di riparazione o intervento programmato. OMS di Siani Luigi, ci trovi a Via Caliri 4B, a Cava dei Tirreni. Si festeggia oggi, martedì 14 febbraio, San Valentino, la festa degli innamorati. Giornata dedicata a tutte le forme d'amore, in cui si trascorre del tempo con la persona amata e ci si scambiano fiori, cioccolatini, biglietti d'amore. Ma c'è anche chi preferisce regalare un'esperienza da vivere insieme, come un invito a cena, una giornata in spa o una gita fuori porta. A tal proposito, siamo scesi in piazza per chiedere ai cittadini come passeranno questa giornata dedicata all'amore. Penso a un ristorante a lume di candela, come si dice, oppure un giro da qualche parte, un pochino per stare insieme. Siamo sempre insieme, però quel di più che c'è lo passiamo insieme e così via. Sinceramente non ho una idea, non ho fatto ancora programmi, non sono per i programmi. Allora io, niente, in un momento un po' particolare della mia vita, il San Valentino, sono venuto da dove abito e lo passo qua con mia mamma che ha 87 anni. Il mio più grande amore femminile a questo punto. E non lo so, è una sorpresa per la verità. Mi è stato detto di essere pronta alle 8 e mezza stasera e quindi è una sorpresa, non lo so. Magari se mi intervisti domani ti faccio sapere. Quasi nulla, con gli amori storici, mamma e papà e figlio, perché il marito lavora fuori città. Grazie.